Musica Da Gasperini siamo con il mister del Mach3 Mister, che partita è stata oggi? È stata una partita bella, ben giocata da tutte le parti e combattuta secondo me fino all'ultimo minuto perché il 2-2 penso che era un gol regolare poi alla fine il 3-1 ha chiuso le gare con un rigore però è stata una bella partita Faccio i complimenti al Gasperini perché tutto sommato è stata una partita correttissima e ai miei perché venire qua e dimostrare ancora una volta di avere una personalità forte vuol dire che siamo di un livello superiore a quello che la nostra classifica dice Infatti mister, già domenica con il Gimigliano avete dimostrato andando in vantaggio 3-0 Vero? Questo è quello che magari ci mancava all'inizio nel girone di andata che piano piano stiamo acquisendo fiducia in noi stessi e stiamo giocando un buon calcio anche contro le prime perché dimostriamo di poter essere quasi alla pari con tutti quindi faccio i complimenti un'altra volta ai miei e recriminano sempre un po' gli arbitragi ma non nel caso specifico ma perché in generale vanno sempre a favore di chi è meglio piazzato in classifica Siamo qui da Gasperina e Gasperina Mach3 siamo con il vice capitano Saverio Agresta Sassà, oggi tutte le squadre che arrivano qua se la vogliono giocare vi è aperto come mai? È giusto così poi sanno che siamo una squadra forte quindi è sempre bello vincere con noi ci provano ed è giusto così è stato bello anche oggi è giusto così Oggi due reti importantissime per il proseguo del campionato Sì, l'importante è che sono servito a vincere quindi ho fatto il mio e sono contento La squadra adesso è in grande forma diciamo per la partita di Cuturella adesso ci sono rimasti se non mi sbaglio tre o quattro finali vero? Sì, noi ci siamo andiamo tutto quindi adesso andiamo con il Cuturella e ce la giochiamo Ok, da Gasperina è tutto a voi studio e ce la giochiamo e ce la giochiamo